Buonasera, mi stavo per alzare e riempirmi il bicchiere Non sei preparato questi giorni però eh No, perché la borraccia è lavata La sborraccia non me lo dici a me, hai capito? Non l'ho detto io Lo sapete dire che lavare la borraccia che tanto metti sempre l'acqua Ma perché dopo l'acqua si ossida, si fa se non la pulisci bene Infatti però perché? Non lo so Ma io infatti, io volevo prenderne un'altra di vetro Però larga in modo che rimane comodo Cosa balli? Cosa fai? Era un... stavo spruzzando il svapo sul coso che ciuccia lo svapo L'umidificatore? No, il D Il D è umidificatore? No, il D è basta, sì No, perché appunto una di vetro un po' più larga e spessa In modo che posso pulirlo bene anche con la mano E poi di vetro Una brocca, quindi una brocca Sì, però fatta a borraccia, col tappo fatta per bene Che non... Questa qua me la tengo per la palestra La prendi plastica, la prendi? No, no Come no? Non la voglio di... la voglio o di vetro o di ferro Perché? Perché è più bello e poi non inquini Ma mica la devi buttare via, stronzo Beh, quella di plastica mi fa schifo che c'è la plastica Voglio le cose sane Eh, ma tu ti metti il ferro in bocca, sei pazzo? Vabbè, non c'è il tetano, si spe... C'è un attimino un problema Non ne sai Prendila di carta, prendila di carta Marco Prendila di carta Marco Volevo chiedere a Bressanini qual'è la soluzione Prendila di carta Splash E' come il succo di frutta Cioè, prendi un cartone di succo di frutta Basta il succo di frutta che c'è l'incomo con il succo di frutta Poi dopo lo riempio ogni volta il tetra pack Il domo pack, come si chiama? C'è la limonata da due litri, vuole, grossa così Cos'è? Scusa Aspetta, me la porto Voglio vederla adesso Cioè, giustamente Cos'è la limonata grossa così? Intanto apro il gioco Vi spacco la faccia, come sempre Perché io sono veramente curioso Voi no? E' una cagata solita che dice Marco Come quelle che le spavano le tette Che poi c'hanno in RGC Infatti, ho come che il primo in classifica del mondo di paywall Era del locale No, era secondo tra l'altro Ma sei zitto sei Ma, vabbè Sei ancora zitto? Ah, no, adesso non sei zitto, scusi Guarda quante grosse Ah, bello, è il planner Due litri Sì Sono tornata Eh, la riempio era la cavolata Questa qua, posso farci i bicipiti Ma è limonata quella Più è lemon lime Lemon lime Perché io prendevo là Prendevo nei cosi così O là c'è Eh, infatti c'è anche O l'arancia rossa Infatti c'era arancia rossa Tropicana Solo che, scusami, ma Pesa tantissimo Limone lime Come lo bevi, scusa? Aspetta, ti faccio vedere Ma non è che mi devi far vedere la modalità No, la modalità Ti faccio vedere il colore Perché non è proprio Se vedi bene Non è proprio giallo, giallo Anche il limone Quando lo spremi così È un giallo Più sul verdognolo quasi Non si capisce Non è vero Da lì sembra giallissima Infatti, però non è così No, ho capito che rinfresca C'è il 90% d'acqua Io limone però Lo metto anche nel sedere Eh? Non lo dico subito Ma è stata metà A parte che è tutto arabo Qua dietro però Perché già sono il 10% di limone E penso che lo bevi così Lo bevi Sì, sì 10% di limone Non cagli più per un mese Non c'eri italiano, Moro Non c'eri italiano Beh, intanto crea la partita, Moro Intanto crea la partita, Moro Ah, c'è il spagnolo Grazie mille Come sempre Grazie, cazzo E il 7% di limone 7% E invece il lime è 3% Eh, quindi in totale è 10%, vedi? Acqua, vedete Eh, non è che va a scatti, Marco RUT a 25% Eh? RUT a 25% E' andando a pochi frame, Marco Rientro... A me è tutto a poco Adesso aspetta, adesso... L'ha sentito spixelato, però Non fa niente Ficchè da me Dai, adesso ti sei spostato Ma sei uno fastidioso sei Sono tornato! Guarda qui, Lady Verity Nella saluto con l'ombre... No, non è vero Grazie, Lady Quindi grazie, Tia Grazie, Lady Grazie, e anche Tia Allora, dicevo Amici, per poter giocare a questo gioco con noi Voi, subscriber Dovete fare Join with Password Qua E poi Mettete la password Che vediamo Che vediamo Noi nei gruppi Nei canali Grazie, Bicoliz Bicoliz Bicoliz, come sempre Farò il director Perché oggi Come ho scritto nel titolo Salgo di livello Eh, porca miseria Vero Amici, io non vi vedo più La password Potete poi trovarla Nel canale discord Dei sub Quindi adesso copio la password Poi andrò a metterla qui Per i miei ragazzoni Eh? Si aspetta che la prima partita Mentre sembra un po' più Tu sei l'ori del santo Che c'hai tu il ragazzo Fammi copiare in colla Lei c'ha sempre Degli uomini dietro Cioè non nel senso Ma non funziona Ma come non funziona? Ma ci ho preso anche i due punti Non lo so Chi è che è stato? Chi è? Aseo Ma porca puttana Aseo A pure la sub Grazie Aseo Grazie Aseo Grazie Aseo Io sono Aseo Giustamente poi cosa dico pure la sub Ha giocato sempre qui Che è per il sub Sì Cioè pure la sub Che 32 mesi Sì Amici non mi entra anche se sta entrando Eh E mbe Eh la chatta Faccio back e riprovo Ma non Perché vai back Ma vado lì Non devi aspettare No quanto ci mettete? Adesso la password ancora non ce l'avete Oh rifaccio la stanza Tanto non l'ho dato nessuno ancora Ma dai adesso che stanno entrando Eh non mi funziona a me Ma perché non ti funziona? Se non ti funziona non entri neanche dopo eh Fatto copia e incolla non funziona Che ti devo dire? Scrivi la mano su un quattro cacchio di lettere Ma non cosa lì? Non credo Perché a me stava caricando Ma se hai buttato giù Adesso non sta caricando Vabbè chiudi e riapri Che fa svegli Ah ok Ma ne lasciamo un'altra di verde No è sempre quella Marco Ti provo Non so Devo dire Oh ecco qua Vedi che lavoro Vai adesso puoi Adesso ve la passerò Sul canale per i sub Di Telegram Che non è un canale Ma è un gruppo Dedicato interamente A voi Grazie benedicti Grazie mille Dove È solo voi sub Siete dentro Quindi tiè Vi beccate questa sub Grazie per le vostre sub Bellissime Mi raccomando Tutti voi potete giocare Quindi mi raccomando E poi la vado a mettere anche Nella stanza Del naso Nella stanza subscriber Del Una palla di neve Anzi una palla di saber Io sono la zee infatti Mi dava un po' fastidio Ok Ah tra l'altro Se vi vedete Che non avete più il VIP Magari Perché sono passati due mesi Perché adesso Dura due mesi il VIP Sì Pian piano Di giorno Li tolgo E l'ha Di scato Non più adesso Due land Ah ecco lì Due lander Vai dai Otticchio Once again Sarandreas Ehi ehi Oh Grazie Mi sei fatto fare Il livello 100 Quattro mesi E viva Mettretrain amici Grazie a tutti quelli Che partecipano al trenino Tra l'altro Amici oggi Ho iniziato Nio Nio Ma non avevi detto Almeno quello Che ti faceva cagare Sì ma perché Era una merda Giocarci Non ero capace Per niente E adesso c'è il 2 Tra l'altro Sì per quello Ho detto Boh ci riprovo Voglio vedere Se magari Sono Sono Incambiato In qualche modo A me piaceva Vederlo Non l'ho mai giocato Però Dai ragazzi Io voglio che Entrate dentro Al gioco Perché non ti fai Una run Mora by night Perché credo Sia lunghissimo E mi blocco Perché perdo Come le merde Vabbè ti insultano Almeno è divertente Punto ma che Magare No poi è lungo Questo lì È zarlo meno Siamo vestiti uguale Come stiamo vestiti uguale Come stiamo vestiti uguale Siamo cambiati Tu c'hai le spallette La dici Per la gnome La palla di seme C'è Aseo che sta entrando In una palla di seme Ci sono ancora tre posti Sono ancora tre posti Waglio Va bene Bene Mi hanno dato una botta Autobotte Grazie Autobotte Bentornato Autobotte Facciamo qualcosa Lì Ma c'è la sabbia Voglio le robe nuove E con un po' di lemonade Così vado a fischio Appena finisce Tanto come gioco No 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 Con tre giga Ed è abbastanza No è È gratuito il gioco E Anche proprio Leggerino Come Prestaction No no non è L'unico requisito Che deve essere Super giocare È sana Sì L'unica cosa che vi chiediamo È che siate sub Meglio dalla limonco Come cacchi C'è Partiamo anche in set Ma sì Anche in pochi Che c'è L'entrano dopo Aspetta In un altro minuto Amici Di nuovo le cose che sblocco Ci sono delle carte aggiunte Tipo c'è The Florislava Eeeh Posso che fare The Florislava Puoi Cari settimana prossima Possiamo anche ritornare Momentariamente su golf E fare una Su golf Volendo Se l'avete ancora Questo per cambiare Un po' Intanto Che tra l'altro Discord ha una funzione Particolare Che permette Eeeh Di mandare Un invito Per giocare Su Discord Ah sì Magari puoi farlo per il sub Dipende però Credo Questo è free to play Sì benedicti Golf hit no Però non può Stare No golf hit Golf hit Golf hit Golf hit Non ci stiamo giocando Perché va a dei problemi Va bene giochi Darwin project No però tipo divinity 2 Ho visto che c'era scritto Che potevi Ma è party moro dai Parto Buonasera Sì Marelli Marelli Si allungano il trenino Marco Grazie a tutti e due Grazie mille Ben arrivati Allora c'è il trenino Marco Il trenino Marco Grazie al cielo C'è il lizard Stato scaricatelo Anche se siete sub Mi raccomando che tanto ne facciamo altre due E c'è Igor Pronti Preparati C'è Gian Gianni Castoro C'è Abbone Mai Abbone Ufficialmente Mai Abbone Mai danni The Flex The Flex is lava Poi torniamo a The Mark Buonasera Io sono Marco fai un saluto alla telecamera Come sei vicino a me A far vedere Ciao Ciao Morelli Ciao Marco Por cortesì Guarda se sei veramente vicino Emanuilieto Grazie Emanuilieto Per il Emanuilieto Beh c'ho uno vicino Grazie mille per i tuoi segni Siamo saliti con l'idea C'è un siena quando era il Il Due giorni Non hai finito una frase Bravo Ma come l'hai capin Che dice l'hai capin È crashato Ragazzi si vede la mappa Dicono Ehm 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 Non ho capito Se gostate è vittima Ma banno Da tutto Ma bannate vi gostano No incontrano Beh ti lascia La chiudetela live Ragazzi Fa buone anche Perché se no vi uccido il personaggio Poi non è che serva molto a gostare Visto che tanto Ogni casa che entri C'è comunque la mappa di tutti Ma guarda lassù quanta gente Cribio Io che scherzo Questa è un po' di sono Ma C'è un po' di sono C'è un po' di sono C'è un problema Ogni tanto dirò Dirò qualcosa Però già C'è posso capire Se no non giocate Vi guardate la live Però no Vabbè Solo l'audio Si Perché no Non vi dai informazioni Volendo si In teoria Non dite In questo momento C'è gli Ezzar Che è circondato Da sei persone Che stanno combattendo Ma questo anche Se muta la live Comunque ti sento lo stesso E tu si Infatti vedi Ha ucciso Qualcuno Noi stavo guardando L'altro combattimento Purtroppo Ho capito Ciao a tutti Non potessi mettere La webcam sulla mappa Eh vabbè Magno no No più che altro Sarebbe da smicchiare Poi tutto Abbiamo tre webcam Noi ragazzi Vabbè ma ci fidiamo Dei nostri sub Anche perché appunto Se uno non lo fa Vuol dire che una persona Del cacchio La cacciamo subito Ha scorreggiato Azeo Azeo corri Non ti farò fregare così Azeo veloce Veloce Vai Dove vai Dall'altra parte A sinistra A destra Ah ma porca miseria Ma dove vai Dove Dove Tra l'altro Come vi ricorda Ventor C'è il giveaway Di Stangaming Partecipate tutti Che è grafissima Grazie se ci mettete Due secondi amici Mi raccomando Tra l'altro Tu hai per caso Il portatile Che hai sconto No Ah quella che aveva messo Perché c'erano portatile Dopo durante Ricordamelo Tra un piazza e l'altro Qualcuno di voi Serve un portatile Qualcuno di voi Serve un portatile Da gaming Amici C'era un'operta mica male Sì Tanto chi è Lo nickel Grazie a lo nickel Per 22 mesi Grazie mille Gentilissimo Grazie a lo nickel Peccato Incentiviamo Che legna Aseo ci sono Bravo Bravo Ti senti No? Ti senti più forte? C'è Aseo Sia da Amazon Che da Istan Gaming Se comprate il nostro link Ci supportano Che è Potete Non piacere Lo avevo detto Però no Se uccide anche E vabbè E vabbè Ma solo lui Io ti ho provato ad usare Eh niente No Non posso usciare un lavoro qui Un po' di magambe d'altronde Il giveaway di Istan Gaming Lo possiamo fare Perché non lo facciamo noi Non siamo noi diretti Quindi se li denunziano Sono cazzi di Istan Gaming O se no Poi magari loro hanno tutto in regola Sì Loro probabilmente hanno tutto in regola Però nel senso Anche se Non siamo Cioè noi lo pubblicizziamo E basta E come pubblicizzare una rapina Se non la fai Va bene No Non credo Non credo però Qui però Perché Non la fai mica tu la rapina Ma se no ti arrestano per qualche altro motivo Come sapere di un omicidio Se lo sai ma non l'hai fatto Eh però se non lo denunci E' in concorso In omicidio E per loro amici Non si può fare Allora qui bisogna movimentare un po' le porte Esatto Te l'hizer Che ho fatto? E' tra l'altro Ma vabbè Eh ma hai rotto le palle Sto facendo tutto il giro Ho sempre il chiezzo Io la faccio sta cazzata Anch'io sto dovuto scappare da quattro zone diretti E' un partito dall'alto io Ehi ehi Aseo Grazie Roa Polona Grazie Roa Polona Tondo 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 come il bellissimo Morelli Ma come si permette il bastardo Ma che dici? C'è un partito dall'alto io Cazzo dai Aseo ce la fa Non lo so se ce la fa Aspetta eh 3 2 Aiuto Aseo Corri Porca miseria Ti è andata bene ti è andata eh Che c**a Ahahahahah Ahahahahah Ma che sticchio amora Chi dove, fa vedere? No Non mi scatto Marco ti stanno tracciando Eh Tieni Marco Azz Cosa hai detto poi? Cazzo ho detto Ah Non ho capito Oh non era Non ho capito Potenza di galle Vabbè allora Ho fatto veramente tutto il giro della parte Non era per te Ho capito oh non era per te Faccio un po' dimagrire oggi Via via si corre si fuglie Il mio Marco è meglio di cetriolo Moro Ma vabbè il mio era perché l'ho trovato e mi ha fatto ridere Quello di Marco è veramente tremendo Allora un po' di rispetto No Marco è terribile Perché in realtà Il cetriolo Moro si fa cagare Era veramente fatto di merda Come effetto Eh Gian Gianni quello che mi sta seguendo No Gian Gianni Come si chiama adesso? Voglio del Del merchandise adesso del trenimo Marco Vola pieni E' Aseo sto combattendo con Aseo Questo è perché sei sopravvissuto eh Non te l'ho potuto dare Niente inculati Vabbè Te lo posso ancora dare Mi spiace Marco ma tu sei in combattimento Te ne devi andare E io non capisco Non lo vedo mai Aseo Asi tutti quelli che arrivo Ah perché è bravo a muoverci E' sempre in cielo Caspiterina Marco che legna Nella ragade proprio l'hai tirato Oh 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 Marco non ti fare fregare Marco l'hai ucciso Non l'avevo vista Gigi Chi è Gigi? Con la T Grazie anche a te Scusa Allora Sudden death Si inizia a restringere qui Hai capito Marco? Certamente Marco Lo vedi che si sposta verso di te? Hai detto cazzo Che ha detto? Gli è già l'ha detto Esplode la torretta di fianco E ti è sciupando i cose Nicola che fai? No perché sono andato via dal fuoco? Marco non ti preoccupare Ti penso io a te Satti Moro Che fruggerio Tieni Marco Salve ragazzi Sono tornato Oh 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 Che tornato? Cesare grazie Bentornato Aliezar è scappatramato proprio Sbrutalizzato Adesso è tutto nelle mani di Marco contro Gian Gianni Castoro eh Vediamo quando si noteranno Un'aquila si è sentita Devo ruttare Non si può adesso eh Un lavoro che richiede molto tempo Marco sei stato catramato Oh 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 Ding Bong Lo so mmh devi stare attento sa questo è un maniaco bravo un bel colpo incredibile con le tue mosse le frecce dove le hai messe non ce l'ho più io aiaa che botta che hai preso aiaa lasciami stare che ha lasciato stare per sempre gino gino pauli pauli ha vinto marco che palle le palpitazioni ha le palpitazioni gustative ho fatto e ho ucciso a zeo le persone sceglie il loro spazio io voglio provare a fare con però è level 5 sempre mi dice io apro quest'altro pacco intanto oh belle grazie belli grazie una volta tanto riesco quando si desblocca sono quasi al 4 e mezzo non puoi non puoi comprarle magari no no cos'è sta roba e avere livello 5 almeno di una classe a e allora gioco e me ha spiegato se fosse un livello 5 del director adesso mi devi guardare perché ho sbloccato una cosa incredibile marco adesso gioco io aspetta ma poi puoi guardare lo stesso ma poi gioca anche more adesso via se volete lo faccio io il director in caso vai vai e tu l'hai già fatto io voglio sparare dai se faccio io il director giusto per piazzare un po' di bomba gioco aperto pronti per entrare all'interno del gioco aspetta prima voglio le droghe eh? a livello a livello sportivo no? a livello sportivo e comunque doping no volevo dire la droga volevo dire l'avvantaggiamento amici quelli che non sono pronti no non è crossplay questo qua poteva essere un po' crossplay beh no ah mo hanno fatto il computer porca miseria che? vabbè puoi farlo adesso eh adesso lo facciamo intanto ho messo la password anche nei nostri gruppi adibiti intanto l'hanno messo fortrite l'ho messo e adesso faccio una cosa perchè luco ha già detto ma c'è questo portatile che è il sconto di 240 euro esatto per un portatile che non è male non è quello da 2000 euro costa 750 760 anziché 1000 si ed è un bel hp però dovete esplicarmi perchè finisce a mezzanotte di oggi però mi arriva se lo dirai adesso mi arriva tutto ma che hai in testa? l'ho riciclata si guarda che ti tiro la palla di 6 aia la palla di sapone non so giocare io non gioco mai eh beh adesso giochi piano piano chissà che si attra faccio un bel switch questo no questo è giocabile 2 4 6 8 9 c'è ancora un posto ragazzi vecchio riflettore chi ha giocato entri pure tranquilli non c'è paura c'è mette la palla di seme aspetta aspetta a partire la palla di seme equip ed equip ed equip oh c'è una cosa nuova io gravity storm tieni moro palla di seme ma io c'è la gravity storm ma che tu non hai uno palla di seme 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 alla gravity storm perchè giustamente io ho fatto c'è però anche a me dice richiede il livello 5 il direttore è lieta questa volta si un direttore c'è sempre un direttore c'è sempre eh però comunque ho la gravity storm che non hai quindi non so o l'ho sboccatta da qualche parte magari l'ho sblocata da 6 livello 5 sarai il livello più alto ero il 4 l'hai sblocata magari l'hai sblocata con fangit non lo so se si può ah siamo pronti 1 2 3 4 6 7 8 9 10 partiamo c'è sempre un direttore no volendo no volendo si può anche non fare però è carino si può fare anche senza dire si può fare anche senza però non succederebbe la nuke n'è sta roba qua per esempio prendere un ottimo lavoro domani mattina no domani mattina facciamo rainbow gta finiamo le missioni giovedì perché non abbiamo fatto l'ultima missione giovedì sperando che non mi crashi ovviamente la posizione va sempre a caccare dopo un'ora tra l'altro c'era il simbolo del caldo no? andiamo 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 quello che cos'è lo prendo ragazzi ti voglio capire tutto il luogo oh f***a cosa ha detto Alieza? ho detto f***a ha detto super f***a ok è interessante il cosa che posso attivare non so se lo fa solo in uno riquadrato o tutti prima moro ragazzi ve lo dico io si dico io che stremmo però vedi adesso Alieza fa il direttore turistico direttore d'orchestra come... non sooo Peppe Bergomi lì Peppe Sicchio no allora non uso niente ma c'è della lore qui mi piace come alberello lo ciuccio ottimo lavoro l'ho ucciso 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 non gli ho dato pressione sono stato fortissimo il mio primo kill in DS il mio primo kill in DS ora ti sei l'unico non ti ho visto sono stato... brutelli proprio sei là io forse ti sento in game ho il microfono montato quindi... ti vedo in alto a destra mi stai seguendo? no sto seguendo moro non lo so come mai la zona nord-west è iniziale è iniziale un... il club H quello suonatore ok ok poi chi è che ho ucciso? non ho visto ahia ma... invece ma io non so giocare un po' non sono preparato a queste soluzioni eh? sì o me già vi ho fatto una kill sei già... il migliore del server eh ma l'ansia mi perdono maial? chi è il maial? poi io non so tirare le frecce è morto la Icapinus niente ma la Icapinus è morì è il primo shift per correre eh vabbè ha capito già hai capito eh le lieta no è che non mi sta facendo chiudere perchè non si può chiuderne due volte cioè due aree nello stesso momento fallo eh no no bapbo non manchia la freddura certo amore devi curare il tuo percorso hai ragione Marco fai mi appicciare il fuoco quanti alberi vi ho trovato non è niente sei un bravo ma... correte soprattutto quelli che sono tutti a sinistra che animale che sei dietro? guarda ma si vai tranqui io me la prendo con calma no facciamo un po' un po' già ma che spizzerina che spigola che spigola ho visto una persona eh qui mi sa che qualcuno ci rimane eh beh infatti Ferris è morto per il freddo no? abbiamo visto moro sto aspettando pezzo di merdence sto con la faccia adesso ah 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 quanto via Marco non mi sento in grado sto con la faccia vieni qua scappare cagone dammi le frecce grazie minchia la minchia Marco ho un pochia poca legna ah marco ti ho ucciso mi hai tagliato la carotide ho ucciso il first champion in the ass no ero davanti scusami eh ho sentito dolore indietro io eh non si può usare ok ma non ti ho tolto nulla scusa ti ho colpito tre volte Marco avevo lo scudo e mi hai colpito una volta poi avevo la barriera dopo quando ho visto una barriera il vendito in fino aOTHER avvolto mi rimettono la limonata in frigo certo ilarring di pur Annamorata ora attiva un elettronico il ripi Bora Il vendito in personale ha avvolto Allora, adesso sono equippato a Modono, ma non mi scoraggio, al massimo scorreggio. Oh, sbagliato. Ho sbagliato un'altra volta. Ma chi se ne frega di quello là. Fammi uscire dalla mia stessa cazzata qui. Questa la riprendevo. Allora, la la uso però, la fin. Segnasi tutti bene. Io ho lezzo al 9, se me ne vuoi dare un po'? Dove cavolo sei? L'1. Ma ne hai quattro? Eh, adesso... No, non ne vieno, non sei tu, aspetta. No, hai lezzo, io lo vedo. Grazie, gentilissima. Prego. Adesso, appena... Chiedete di rompere un punto, uso questa roba qua. No, Mike. No, Sardar. Com'è vaniciato. Oh, checkmate. Mmm, siete ancora in quattro, eh. Pushy, Krieger, Deflex... E quanto l'ho lanciato in là, oh. Bah. Marco, l'ho sbragato di legne, prima. Ho anche svuotato la mia urina. Ah. Ustia, che botta! Maronna, mora! Sbrudellato! Che sbrudellon! C'era viso? Non ho sbagliato ancora. Sbrudellon! Non ce la faccio, non ce la faccio. Correlli, sei a due kill? O tre? Nooo, tre. Tre killi. Gli altri sono là e là. Eh, siete molto contanti. Mi sono rimasti Deflex e Pushy. Oltre a Morelli. Buonasera, Deflex. Eh, no, Tonatz. Ha impostato tra i 5.000 e i 6.000. Mi risponde, forse mi odia, cambiamo. Buonasera, Pushy. Eh, mi pare sia a 6.000, Bitrate. Buonasera, Bitrate si estremo a 6.000. Io estremo a 5.000, non so, ma infatti dovrei anche aumentare. Non so perché estremo a 5.000. Non so, non mi rispondono, forse mi odiano. Buonasera, Morelli. È il massimo che si può avere su Twitch. Hai paura, eh? No. Sì, ma comunque in base alla... Adesso nei PC, ovviamente. Amici, domani mattina facciamo Rainbow Six. Io volevo giocarci un casino. Ah, vai check. Ah, ma tu hai il... ok. Il cazzo. Ma ce l'avete tutti in realtà? Sono io l'unico pirla che non... South-East Zone è ora... No, adesso io c'ha le aria. 2-0. Guarda, che io... Più o meno... Prova a saltare, Morelli? Ok. Che liquido! Che sbomba! Che volo, Morelli! Sì, amici, l'abbiamo visto noi operatori. Sono molto curiosi. Ma guarda il Cervo tutto forte! Sì! No, è andato via per sempre! Arrivo! L'avevo da prendere! È andato via per sempre! No! Cervo! L'avevo chiamato anche con un nome bellissimo! Stefano! Cervo Stefano! Scretino! Sono dietro di te! Dov'è andato? Non lo vedo più! Attenzione, Morelli! Va per la s... Vittoria! Aia! Toccano! Al boccano! Dove vado! Buon divertimento! C'è proprio già a partire Team Rocket! Ma froca miseria! Non si uscire! Ma tre non dentro una casa così! E' bellissimo! A me c'è qualcosa che dico! Chi era intanto? Livor! Grazie Livor per l'asciutto! Livor, grazie! Anche questa volta Morelli ha fallito! Oh, come vado giù veloce! Oh, come vado giù veloce! Oh, oh! Ma anche la lava è soggetta! Sta finendo! No, mi sa che è finito! Maria! Eh sì, è finito! E' Filippis! Ma stronzo! Se fosse stata ancora la gravità zero è rimorta Morelli! Andavi su della lava probabilmente! Eh sì! Ostia! L'ho sbreghegnato invece! Moro, sei on the fire eh! Come si vede la classifica ESC? Hai fatto ben... Non lo so... Kill! È incredibile! Moro con il deflex! Ha fatto quattro kill Moro! Si vede sopra la mappa! Ah sì, quattro! Stavo aspettando anche deflex! Moro, è il tuo momento eh! Da direttore di gara subito PEM PEM campione potresti essere! Mici! Orca miseria! Adesso l'ho detto perderai! E' uno champion in DS! Ma adesso l'ho detto quindi perdi! Amadeus l'hai detto! Fatta pazzesca si! Ahà! Sento un pizzichino! A livello pelvico! Non era a livello pelvico! E' tanto che non seguo ma ESC era in giamaica a fare il room! Ragazzi! Si! No, non è che era! Lo è ancora! Oggi è in giamaica a fare il room! No, credo che in giamaica sia l'orario giusto di lavoro adesso! Sì sì! Ma è che lavora di notte perché è illegale! Ho detto che domani si spostava! Poi vediamo! Questo è un problema! Lizar mi appicci il fuoco! Non ho più niente! Quindi ti attacchi! Ma non ci sono più alberi! Oh stiamo un'albera! No sì! Anzi due ce l'ho! Che figura di cazzo! Uh... Sudden die! E' però... fallo però! Eh adesso mi devo... Voilà! Ok! Restringerlo tutto eh! Sei al porto, fumo! Ma tranquillestà! Vi avete comprato il Galaxy Watch, Tonaz? Non conosco proprio! Galaxy Watch non è di sei anni fa ormai! Quindi deflex contro Moro, vediamo Stanno rifullando, attenzione Moro scorreggia Un po' di aerofagia Ma tranqui Ecco, dove sei finito? Volevo dire Moro E' be Bravo Moro In occhio alla lava, che brutto posto per chiudersi Moro se muori nella lava io veramente non ho Come pensi distruzzo Come pensi distruzzo Ma che insulto è? Ah, ma era qui Eh, non stai facendo nulla, però stai facendo tutto nulla Moro, forza, respira tutta la gangia Come? E' un casino però qui, adesso siete chiusi dentro E' la prima cosa che mi è venuta in mezzo Addiooooo No Niente, non ci credo Ho vinto Ho vinto Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì E' il record del mondo! Ma hai chiuso con una scorrezza po'! Ahahahahahahahahah Ho chiuso veramente con una scorrezza... si però ho fatto... Di 1850 punti ho fatto un mezzo livello Ma bravissimo, per carità Ispira tutta la gancia Ora ho squalificato la sarrezza Ma scusate! Ma è la prima cosa che mi era venuta in mente, non volevo dirlo per davvero Ma poi il fatto è che dopo ho sentito il... Nooooooo Ma è caduto giù Chi è che era, Lizard? Era The Flex Ma che figura di merda che hai fatto Però ci hai fatto molto ridere Mi fa male l'occhio, piango Spero che qualcuno Sbattimi un'altra partita Spero che qualcuno abbia clipato, perchè questa va direttamente nel termo best Questa se qualcuno l'ha clipata va Io voglio tutta questa partita Cioè tagliati solo le mie kill E poi il finale Eh si Quindi Luke Vai che prende subito un'altra Stai guardando Ne facciamo due magari Se riusciamo che... Allora accostiamiamo il match Faccio ancora il wash e gli dai In me La prova all'ultima magari la gioco Però adesso l'antigravita lo uso in un combattimento così si svinchiamo tutti Eh si alla fine Cioè no quando vedi più combattimenti Si quando c'è un combattimento con magari con tanta gente Ho copiato la pasta Ho sbagliato tutto il tasto Pippo nodo Dai che adesso mi sento casato Comunque mi ha portato sfiga la cosa delle letter Nel riciclo Mi raccomando rientrate pure Non c'è problema Aseo pro quanto t'ho spaccato eh Ma cosa? Aseo? Ho spaccato Aseo, ho spaccato Marco Ho spaccato... Non avevo visto che avevi rotto anche Aseo Infatti Aseo non c'era Ma chi era allora? Aseo, porca miseria Era un altro Vado a mettere le cose perturbabili dentro il gruppo Palla di seme Palla di seme Palla di seme Anche su Discord Voglio un elenco Tarwin Project Palla di seme Tarwin Project Guardiamo un po' quanto è su Potete riterarmi la palla di seme Sono bravissimo T'ho preso di soppo Ero fermo Grazie Crazy Crown Crown Grazie Non è facile da dirvelo così Palla di seme 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 Palla Palla di seme Puoi partire moro? Che ho i check dentro Che ho i check dentro Ma poi non ho mai detto ganja in vita mia Nella prima volta Olla beffa eh Che neanche un tronchetto della felicità Per ballare qua Pippa lunga Sono morto per un prete io eh Come mai cosa sta a fare Cosa sta a fare 20% chance after every game you direct Ah Eh? Allora su steam dicono che c'è il 20% di possibilità dopo che hai diretto un game che ti arriva una carta Ah Però non Non so se hai confermato Ma a me non mi è arrivato mai un cazzo Eh perché il 20% non è tanto O c'ho un botto di carte tutte di merda Sono... Me ne è arrivata una adesso di far scegliere Al crowd Il preferito Mi pare Fosse una Credo eh Però Il problema È che Il crowd Credo sia il pubblico di Twitch Sembra farle anche comprare quei punti del gioco Palla Che cosa hai scritto? Perché hai scritto quella cosa? Che ne sono alcune veramente molto fighe sta un game Ahia! Ma chi è? Dalwinian shipment ha arrivato Un bel loot ci è qua Igor Frotti è morto! Dal Gian Gianni Castoro Dicono semplicemente di giocare come director Proverli Ok La zona oeste È iniziale Allora vediamo un po' Oh Ottimo, ottimo Bell'un signore C'è un botto di gente la Li-Zer per a caso? Sì C'è un botto di gente la Li-Zer per a caso Aspetta server c'è È morto... Che dispiacere Ma c'è quanta gente c'è qui Ma no me l'ha insulato Ma no aveva due HP me l'ha preso Azeo Ma maledetto Oh è Azeo sempre quello che fotte Ma dai ma veramente killstealing qua eh Aveva un HP è arrivato lui Ora che adesso uccide anche a me Faccio il reclamo dal comune io Non ci sono i sniper muschi Lo giochiamo tra noi sub Non avrebbe neanche senso Cacchio Altra legna Un riso di legna Non mi hai visto Facciamo così ballare Mark contro Azeo attenzione Vuole la vendetta Mark Vuole la vendetta No Colpito Non vedo niente Non si vede assolutamente nulla Vedo nulla Non vedo nulla Eh ma perché stai subendo il freddo Eh lo so È che non c'ho più niente Mora uccide Zongianni No no ho ucciso nessuno io Azeo mora Che ha ucciso Zongianni Muoio anch'io adesso Eh no lei è colpita Ahia Akeema grazie akeema L'ho preso Ma non l'ho ucciso io azeo Grazie grazie mille No è morto per il freddo Headshot bitch Grazie mille akeema Ma vediamo un po' Come siete messe Mio male Mettere un airdrop Qua No 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 È ora attivato Elettronic Ahia No One tap Farò il lavoro No Sono Morto dal Zongianni Amore mi dispiace Zongianni Zongianni Sono morto Zongianni Mi hai ucciso Qui No Che dispiace No Nell'altro albero Dlarz Ma amor mio Della mia vita Quell'altro Dlarz Ti baci C'è del sangue qua Dlarz Grazie Ma purtroppo Sono morto C'è qualcuno che sta bruciando Eh Qua si C'è Gianni Che sta rischiando Dai Andate a follow Dlarz Su Twitch Amici Che fa Le live Bello scontro Però Non sono morto Come bello scontro Bello Kigo Sniper Boste Asi 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 Grazie a tutti e due Grazie Grazie Dicevi A me O a Marco Dicevi A Marco A me Non Facciami Stupido Che succede Amico Marco Non hai vita Ti curi Con cosa Fa gran fissata Non mi è rimasto A me il cioccolano Non ci sono Nemmeno le cose Ma il nuke con l'antigravi No Non c'è nulla Ah vedi Dlarz Allora si Eh Veramente troppa poca vita Però Che d'altro voi non lo sapete Ma il vero nome di Dlarz Che cazzo Che twist Sì Ah Questa è un'inculata Bella e buona Fammi andare a vedere Gli inculati Allora Il numero 7 Lorenzo Abba Che sta andando Nella zona Perturbata Dall'anno Ma Cux E anche Mark Sono un po' Impulati Perturbata Se non è stato Impanicatissimo Abba Sei impanicato In realtà Ci si può salvare Perché hanno un timer Differenti Quindi Sì Io sono morto Però l'esplosione L'esplosione parte dal Guarda Mark Guarda Mark Marco sei proprio nel mezzo Sì Ma io ero Non sapevo che c'era il lavoro Eh ma 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 Cacchio Marco Che brutto È stato un piacere suonare con voi Mi esplosi È stato un piacere Scusa Dlarz Anche se è morto 3 4 Players remaining Ilagno che ci mette un pochino Espargersi C'è dal centro Poi ci mette un po' D'arte quando è che dormiamo insieme Un po' Yeah Metraconale Grazie Che dice Marco Columbro Capodistante Addirittura Beh Grazie Mills Ah vede che mette la Tourette Io sono diventato Un po' Pristante Diciamo L'oliva Come devo corteggiarti Un anno Il signore Abbono Gli manca la legge Lo sgiazzamento A Mux Devo ospitarlo Di nuovo Nel market Idlarz Vediamo un po' Perché sono tutti lì E' Finiamo Dragon Quest Ecco L'ha sentito Non c'è un combattimento L'ha tirata E' stato preso nel buse Mi l'ha tirato nel buse Al lorenzone Gravity Storm Inizia Io apro un po' di limonata Certo No il cappero No non ce l'ho più qua vicino Pier Però stavolta ha niente tema Bravissimo Musso Robali di tutta la mappa Penso di sì Dura anche un sacco E dura un minuto e mezzo Ma qual'è avvantaggiato Chi ha le ali però Con la gravità Abbastanza Beh anche In realtà non servono Cioè ti puoi muovere in aria Però anche il rampino In realtà Eh ma il rampino Ti attacchi solo alle robe E vai veloce verso quell'oggetto lì Eh beh Se puoi combattere Puoi andare verso il basso Cioè ti spara via Con il rampino Ti ribarbisi Libero da sopra Pier Un giorno lo riempio E bevo qualcos'altro Eh ma vedi Al posto della borraccia Hai trovato Eh ma poco Poco liquido E dentro E picciaci La filtro Aspetta nove Come un idiota Ma come ho E check Ah beh Perché effettivamente Patti invitarlo da spettatore Prove Ma io non sono buono A giocare a Yu-Gi-Oh The Last è bravo Come un bel duello De tutto il mondo Non c'è nessuna sfida Allora No sono tutti Estremamente molto vicini Ma Estremamente Distanti Che sono tottito Senti le caldarroste Qui dietro Va a vedere Se gli danno Un cartocino Anche a lui E sempre Abba Si prende le inculate Qui Vai più avanti Lo faremo Non ho capito Sa che stanno cacciando Tutti lui Poverire Ferris Ferris E Mux Mi sono seguito Ahà Mette la torretta Mette la torretta Qui dietro Non so quanto sia Una buona Settrazione Ha fatto un danno Ha fatto Che botta Ferris E Mux E' morto da una torretta Mentre loro stavano combattendo per altri cazzi Dai D'lard Capri Che legna Che si è preso Ferris Sono rimasti Mux E Gian Gianni Castoro Naturalmente si merita la vittoria Mux Sono mai naturalmente Mux Sono tutti due fregati Ha giocato meglio Ha giocato Molto meglio Estremamente meglio Oserei dire Si è stato a seguire poco Ma quando si può Non manchiamo Grazie Bluenote Bluenote Grazie Bluenote Bluenote era quello di Giuliacci Giuliano Ferrara No Ma no Non era quella di Bardino No No Quelle sottomote Ma che ti ha detto tutte cazzate Però gli altri non si credeva però davvero No Ma c'è un programma Lucarelli Che Giuliacci Bluenote si Alla radio Ma non so che non era Giuliacci Ma non so che non era Giuliacci Non so che era Giuliacci Che faceva Bluenote No Era Bluenote Su radio No Su radio Su radio Faceva di giallo Charlie Brown Grazie Charlie Brown Grazie 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 mille Charlie Giuliacci Non credo abbia fatto mai qualcosa Ma si che era un meteorologo Giuliacci Eh si ha fatto solo il meteorologo Giuliacci Era solo loro voglio dire I programmi televisivi Giuliacci Ah ma c'è forbito la che sta rischiando Ranci tu devi stare soltanto e seduta Hai capito? Un tazzardo ad alzarti Pulizione Via Sì Ma veramente Tutta la nostra disinformazione Ma figlio è ancora Figlio è ancora sulla media Io non guardo la tv Quindi Ci sono tutti gli episodi Dell'estero No ho mischiato due robe Aspetta Tutti gli episodi dell'estero Ho capito Tutti gli episodi di Bluenote Tutti è Tutti quelli dell'estero Europa Beh Ti te la smetti Eh ma no Perché mi è schifato il messaggio qui Ho letto l'ultima frase Di quello stronzo di signor L'ho letto Mi ha rovinato tutto Mi ha rovinato E che ha stubbato Where? Where? Esca Where? If you go Grazie mille Per il 30ame Gu perception Dunque Gué Giuliacci Giaff wel confianza ipilio Ho con la media Ob màcom Che c'è al canal YouTube Ma non è vero Che c'è al было Ma non vi marcos Guarda Ma comeako Il canale YouTube Ma si Ma Giuliacci Lunte Giuliacci C'è mento Giuliacci Che cosa fa Il video Mito al giorno Sì E tu scherzi Ma è vero Ah Ma c'ho veramente... E certo! Si ma perchè mi dovrei guardare un video per vedere il meteo? Scusami Per vedere il meteo di tutta l'Italia Che non me ne frega un cazzo Guardo quello del mio posto dove mi serve Ma ce l'ha dato un sacco di tempo Ho aperto un video a cazzo c'è lui che dice Il tempo previsto Il tempo previsto Ho sbagliato tasto No ha sbagliato tasto A parte che c'è anche un cazzo Non sa più parlare Giuliaccio Ha preso una botta Un'altra Sono one tap tutti e due Si esattamente un colpo veramente Ma forse Gian Gianni Ma che stronzo Ha fatto La vittoria Complimenti Che è Mux che ho vinto no? Ma che dì ci facciamo la maratona di tutti i video di Giulia Si si è Mux Se l'avevo detto che se l'era meritata io Bravo bravissimo Ah mi ha dato... Ma ora mi ha dato l'altra carta Io non sono aumentato di livello E' una carta che dà il Darty Da 30 euro Va bene Allora adesso un attimo Tempo previsto Però continuo a farlo io sto brutto Ma questa è la pubblicità ma per favore E ho capito perché io non uso Adiblock Wow Non sa dire né caro saluto né... Un caro saluto da Mario Giuliacci Il tempo previsto per lunedì 17 febbraio Sembra un po' uno straniero Insiste sull'Italia L'anticicolone dell'Azorro e qualche debole perturbazione Passa... La perturbazione? Non so più parlare amici E niente Ma perché? Anticolone Anticolone Riusciamo a fare un'altra? E' tutto vero Allora ne facciamo un'altra Dai dai Però ho tutti in cielo Si può fare... Tutti in cielo Searching Ma che faccio searching? Allora... Custom Match My Custom Match Settings Player Minimap Enabled Player Compact Fully Equipped Yes On Fully Equipped Zone Cloning Automatical Enshipment Ma io voglio più rules Di queste Tempo previsto Ciao Muschio Ciao Muschio Save to Custom E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' никовferullcio E' un po' E' un po' E' un po' Dappunto Amici Avevi Prego Marco Entera Oh Il legge Ma poi a lui non le ho andato in pensione O attendono Cien votate Siete entrati? In realtà Invece che ave probabil L'ho preguito Ma come? E' quanti L'ho per 했어 Che disgraffa Era per qualcos'altro E' un po' Amici entrate veloci Questa qui deve essere velocissima Io parto subito Do 30 secondi di tempo Amici non mi vanno i cappellacci con ragù La password è per i sub Nei canali per i sub Cappellacci con ragù Solo per i subscriber Che ne pensate amici? 100.000 sono lucine I dip stanno calando Adesso perché giustamente Stanno togliendo Fatemi un milione Ostia un milione ce ne vuole Partiamo tra 5 4 3 2 1 Grazie seguace Che fa 25 mesi Solo sub Sì solo sub Avete già tutto Hai detto? Allora dovremmo avere Già tutto Sì Tutto Vabbè sì avete un sacco di linee Sì le abilità le robe Non ci manca l'armatura Con le robe lì Quindi il Darwinium Non ci serve un gazzo E mi sa che non bella neanche messo Ma infatti No no Vabbè Non sarebbe servito Ma lo scudo non si può neanche fare No c'è già C'è già lo scudo Sì però lo puoi rifare Immagino Una volta che te lo scudo Eh ma ferra ci vuole veramente tanto Allora tutti nel mezzo però Fai l'annuncio Gli Ezzar È morto Ah buone Aspetta Credo sia caduto nella lava No Fai l'annuncio Tutti al genere Eh come E a sinistra ce li hai i tasti Cos'è la G La R T Però lo so Non mi senti dal gioco immagino Ah la G Se sei mutato Dai dai tutti nel mezzo Mi raccomando Tutti nel mezzo Che brutti nel mezzo Sennò vi ho avuto la G Dopo Eh per forza Eh Io sto correndo dentro Sono già in mezzo io Non è vero C'è nessuno nel mezzo Come no Adesso il tuo è entrato adesso nel mezzo Adesso arrivo anche io Fammi prendere sta cacata qui Vado Bravi che saranno convergendo tutti nel mezzo Tutti Una convergenza Incredibili Adesso ho avuto la nuke nel mezzo Infame Dipponi di gonadale Come aspettam Tanto fammi chiudere quale laterale a sto punto Sto pensando a dir Ok Caspiterina eh Ah si è caduto una lava Vapone Oh no Sei l'unico Bastardo che sta uscendo dal mezzo Eh ma c'erano due alberi Dove poi andare sullo che faccio Li lascio Big spec Vado Vado No la nuke non la butta nel mezzo Sarà veramente Sarebbe la bastardata Deyna grazie mille Deyna per i sette mesi Grazie grazie Attenzione che c'è già un combattimento Prima di tutto Prima di tutto Sto prende il cagone Sto stai risate Non faceva così Non so ridere Comunque che ho ucciso un Un cervo eh Non so ridere 5 zoni Ramegni Ma si eh Aiuto auto Guarda quanti coglioni laggiù Ti ho preso il volo Brava Ma senti anche i suoni Che sono tutti 6 zoni Ramegni Sochmel Fotto tutto che buo che buo che buo che buo che buo Il show director è ora attivato un elettronico Che miseria, che miseria Capri Ma sfida incredibile, però a tutta la mezza è fighissima No, mi hanno tolto la perbusa Chi è? Dove siete? Devo fare una cosa prima Oh, che culo Zitti Eeeh No, la nuke non posso buttarla giustamente Che, dov'è? Questo Ma dove fanno? Oh Aia Aia Madonna che macello che c'è Marco male Aia, non c'è più la gravitezza Sono confuso Sono confuso Non mi parlare Aia, mi ha ucciso quello di me Marco è morto da poco Ma non mi parlare Maiale Mi fai male all'ora Non è morto per un HP Adesso non ti parlo più Grazie Adesso Adesso no Ho fatto 1200 punti Non è morto Uno è morto Uno Tutti è colpito Non morirà nessuno Colpito Ora è un cacchio di vita Guarda che lo spazcavo Eeeh Non c'ho la cura Perché? Nessuno ha la Io non ho la carta Non c'erò la cura Eh no non c'ho Ho una legna Porca miseria l'ho sentito Rimasti in tre eh Aseo, Punkers Aaaaa Il pagnolino è pieno a moro Un po' Ullà Che cincin che avete fatto Che cincin O travesse L'ho preso Pippo Inzaghi Comunista Ancora Ma Ma no Via vai Un saluto No non puoi Eh Avete 40 secondi Sì adesso vince il primo che vince, ma vanno a morire tutti e due, cosa succede? Parità! Non lo so, che cosa sia mai successo? 25 secondi alla fine, se no c'è pareggio 20 15 12, 13 Ascensione, Aseo in difficolti Iva Muro Protti Come Igor C'è pure il gas, non puoi scappare more Invece come non posso scappare, posso allontanarmi, posso Perché? No, dovete morire Probabilmente dovete giocare in mezzo E certo, ma nel quadrato, nel mezzo Vado prima io però di là, bastardo No Ho vinto io No, è una vittoria che non vale E come no Volevo il massacramento fino all'attività E' morto prima lui perchè l'ho lanciato più nel mezzo No no no, per te la che non vale Grazie a volo Penguin 2 time winner No no no, va Ho fatto più punti di tutti e sono lì solo 8 io 2 time winner Mi vogliono togliere la vittoria così Un baccello incredibile E' c'era un baccello veramente un sacco Amici, noi siamo dal gatto sul... Aspetta che faccio l'open impacts Wow Ho già trovato la mia cassetta delle lettere Amici Esatto, adesso vi lasciamo con il gatto sul piube Dopo queste estreme vittorie incredibili Wow Che? Wow Oh yao Eh? Stupefacente Ciao Da gatto e gli dite gatto stupefacente Esatto, quello A domani con... Rainbow E fin fa la sera 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 C'è il marchedi domani C'è il marchedi domani Marchedi anche pure Ciao Bianco 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 Bianco